e oggi siamo di nuovo su among us e siamo appena ora full quindi direi startiamo nella nuova mappa ragazzi ci sono anche io sì sì ragazzi quando porti quando porteremo un gas spiata che il 12 ma non spiare a scusa mi allontano è lontano se magari questa dura un po di meno forse ne facciamo anche un altro vediamo allora io sono sporato nella cucina allora io inizio inizierei a fare già le tasche allora vado nei motori ok ora devo andare ragazzi adesso io vado lo vado è inutile dire iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e allora perché l'hai detto sei inutile allora io ancora non capisco molto di questa macchina beh io sì adesso mi sto andando pian piano e quindi ho sabotato già manco è passato un po' di tempo già hanno sabotato ma non ci credo che bella task mamma mia mi piace tantissimo oh hanno riportato un cadavere ah finalmente un po' più rapido di me c'ho tre morti ma che cazzo ma secondo te allora vediamo che mi dice questo eh ok allora scrivo anch'io luogo io direi secondo me chi è che ha bastato la clom red dice che è clom red ah si stanno incolpando la vicenda o clom red o follow me oppure sono tutti e due follow me io no io clom red anche tutti e due può essere come voto ho votato si si tu hai votato eppure io ho votato vediamo che oh ha vinto follow me io avevo votato ma perché non ho votato a te vediamo se follow me era non sapevo non mi ispirava lei era un innocento ma perché l'ha visto il primo no adesso premo devo votare a quella non me ne frega niente perché uno dei due dovrebbe essere per forza però sai cosa penso no che è molto più facile per ah sai che faccio io me lo premo e nel dubbio è in colpa quella chi era? eh clom red io a questo punto ho punto lei punto il dito contro lei accuse clom red votate clom red is complicated votate clom red che cosa pensi? e secondo me l'assassino di Hitler è molto più ammantaggiato in questa mappa perché passando per le botole si trova ai posti molto più facilmente ma aspettate vediamo se clom red era ma no ma che cacchio ma allora che cacchio si sono colpati tutti e due ragazzi si vuolevano bene no aspettate vedete il dovuto che ride ho un brutto per le sentire sai che faccio adesso guarda solo da prendere eh no dai guarda tutti qua guarda ora si guarda ma non ti vengono dai ma che s'ha volato? eh chi lo sa ragazzi è il dovuto si è capito dai no sto scappando si appunto sta scappando e non sta non sta recuperando il sabato dai si vede che sento abbiamo capito chi è là è bene se lei è il rumo perché devo venire non ho capito allora faccio questo allora 5 4 4 0 7 fatto ok è il codice devi metterlo per non farci morire chi è? o sa vero o sa vero e vince vabbè per favore ma certo facciamo un altro si ora sei il bianco ti hanno rubato il colore però dai questa è durata poco rispetto dai voglio essere io l'impostore per favore ok eh è niente che è? a me ancora devo uscire immagino a come? adesso ma a me già io già sono partito ma come? adesso devo scegliere l'aria eh scegli io già sto in partito allora un abbandonato ma manca inizia da partito sto già abbandonato vabbè ragazzi se arriviamo tipo per esempio qua girando girando la mappa qui non ci sono mai arrivato che unico un po' old facciamo così se tipo entro 11 o 12 minuti finisce la partita magari ne facciamo anche un altro perché vorrei essere una volta l'impostore capito? oppure potrei essere loro no non lo so cadavere allora era in electrical ma non non ho visto nessuno allora luoghi era in aspetta ma come in italiano manutenzione manutenzione dove è la manutenzione? io tu hai premuto eh e il verde subito ha scritto chi? no ha scritto where vuol dire dove ma uno ha già votato manca detto oh ma che è per votare senza dire niente vogliono votare a me tu pensi? eh no mi sa che stanno votando a me sti infami eh e tu a chi voti? io schifo perché non ho visto nessuno schifo pure tu perché se votano a me questi mi buttano fuori ah no mai perché le verde? guarda uno veramente mi ha votato sto schifoso che c'ho? mai era un imposto rimangono zero imposto ma c'era scritto rimangono zero imposto ma c'era scritto rimangono zero imposto dai ma che significa perché siamo ancora in partita ma io ci dobbiamo trovare tu che è il colore serio no mica tu dico tu sto dai no voglio sapere il colore serio ah io sono il rosso rosso vabbè se tu volessi dirti vorrei dirtelo non lo so perché io tengo la lingua in italiano poi dovresti identificare la stanza in inglese perché ragazzi il dold è talmente stupido che non mette la lingua in italiano e quindi non sa nulla niente ok hold la prossima volta mettiti la lingua in italiano così capisci bravo allora vado in cavo perché ho una tasca bella la tasca del rubino ah devo pulirlo pensavo dai però schifo di tasca mi aspettavo qualcosa di più comunque è grandissima la tua marca si si molto grande si si assolutamente rispetto alle altre ti devi impegnare tanto io premo perché ho un sospettino ho il sospettino sul come si chiama vabbè dico il nome kami l'acqua perché quando io ho visto diciamo quando io stavo facendo una tasca con la lettera del rubino io ho visto lui che se non mi sbaglio stava smutolando gladar is good appunto quindi è kami io dico kami io non c'è niente con kami perché mi fido di quello che dici votate kami perché ha detto ha detto pure che è quello gladar come si può dire è sicuro diciamo non è lui è la desidrosa ok mi chiamo kami che è me gladar mi ha abbandonato vabbè ma come era safe era safe e abbandonato vabbè kami non è un impostore ok non è uscito quindi siamo in tre io te e l'altro e che è rimasto rosa no alfa io devo no non possiamo far fare nulla l'imposto devo subito premere no papi se sei di nuovo io spero non è possibile io adesso devo no il rosa è lui no non lo so però scappa nel dubbio io vado a premere perché non mi mi segue appunto scappa sto premendo sto scappando ma posso solo giocare non ci sono sto ho premuto stavo davanti alla nuova vedi sono in tre allora ok ora chi è io adesso ho paura che sei tu è fuori ma certo mi mi sei inseguuta mi stava all'entrata della non lo so non lo so se trastarti sto gioco veramente ti deve mettere dai ti trasta hai vinto eh dai 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 non è facile mettere dai dai io lo so bene io lo so bene vogliamo concludere con la terza parte ma perché ma se ne sono andati tutti li hai fatti spaventare dai eh certo a te non è andata male dai tu hai alti difficili no quanta fortuna devi avere mamma mia e ho vinto eh certo la seconda all'inizio ho detto ti voglio buttare fuori però ho detto vabbè entrate altri bravo limoxi come si chiamis è un limone poi altri vittor 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 e quicksnake quicksnake e tommy eh l'intomix ma sei tu ma sei tu oh tu di fila oh tutti di fila tutti di fila eeeh uno diciamo guarda il video che questa è la terza e l'ultima partita ragazzi seguiteci la gente esce e entra non si sa perché vabbè io adesso devo vedere però lo so iscrivetevi a iscrivetevi al canale dai ti prego voglio essere il postore voglio essere il postore eeeh vabbè oh io e te siamo il postore non è possibile siamo io e te ma che mi fa ogni volta babù ma perché sei sempre te vabbè c'è un po' di fila ma che c'è allora vabbè devo corregere un attimo le impostazioni cosa cosa guarda se tocco qua va avanti se tocco qua va indietro non posso ah la faccio io ah ok ah ecco allora ragazzi questa volta siamo una famiglia di killer esatto e cerchiamo di vincere magari sperando ragazzi il duod è uscito il postore è tre volte di fila se per questo per lui non è un video perfetto io mi distorso allora io vorrei entrare nella botola assicurando che non c'è nessuno io seguo il blu che è da solo lo sai chi però dai ragazzi il duod almeno rispetto agli altri giochi è un po' più bravo da mongas qui c'è il blu e l'acqua che li inseguono eh guarda non c'è bisogno manco che parli di queste cose tanto sappiamo già chi sono gli impostori ho ucciso uno no 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 ah è francese ora lo faccio io fatto ok comunicazioni sabotate non ho potuto ucciderli a uno di due perché non camminavano troppo si conoscissero ho detto magari se vado non ammazzo uno poi quell'altro torna dopo pochi secondi lo trova morto ti accuso io ho trovato un catavere viola per te l'hai ammazzato tu? eh no l'ha ammazzato Gianfran Filippo quello fammi andare se mi trovano sul luogo ok allora io tengo il blu davanti a me Victor si chiama ah io prima stavo là e attento per chi può esserci nascosto quello rosa ma io infatti non lo sto ammazzando per farmi la sua confidazione cioè per farmi la sua fiducia capito ah lui sta prendendo le telecamere io l'ho ucciso adesso l'ho ucciso ok se il rosa mi accusa gli diciamo tipo tu digli no ah ma il rosa io l'ho ucciso poi io ho pure il rosa ucciso io adesso tengo acqua vicino a me e l'ho ammazzato che stava prima con il rosa ma guarda che io ho ucciso anche il rosa quello che avevi visto prima era il rosa mh io ho ucciso acqua mh ma allora mi sa che non era in il senso perché se quello sapeva mh ok shh vediamo cosa ah un abbandonato ma abbiamo e poi ragazzi e poi ragazzi allora per questo video diciamo che è tutto abbiamo assistito a tre mie vittorie perché sono uscito tre volte impostor e il di angola volta e abbiamo vinto quindi al prossimo video mi raccomando lasciate tanti like iscrivetevi al canale se non l'avete fatto si e per questo video è tutto un saluto da the old and the young ciao 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 è andato ok ciao ciao